Ripeto, il play-out è un campionato a parte, quindi non dobbiamo pensare alle partite del campionato. Dobbiamo solo azzerare il campionato che abbiamo fatto perché, come ripeto, è stato un campionato dove abbiamo avuto delle difficoltà senza dubbio. Però, ora, siamo in questa situazione, non possiamo piangerci addosso. Ripeto, prendiamo questa settimana per ricaricare le pile e dalla prossima staremo sul pezzo per affrontare il lumezzano. Soddisfatto? No, personalmente no, perché, come penso, nessuno di noi è soddisfatto per il campionato che abbiamo fatto. Sicuramente gli obiettivi a inizio anno erano differenti, quindi arrivare a questo punto e dire di essere soddisfatto il campionato, ti dico no. Ce ne sono, penso, più di una, perché dopo Ancona, penso che avevamo la salvezza a portata di mano. Abbiamo perso parecchi punti per strada, con un pizzico di cattivera in più, con un pizzico di lucidità in più. Penso che a questo punto non saremo in questa situazione, però, ripeto, non possiamo piangerci addosso. Quindi, niente, sappiamo che comunque abbiamo perso molti punti per strada. Per ora dobbiamo solo pensare a affrontare queste due partite con la massima tranquillità. Sì, siamo consapevoli che a noi bastano due pareggi, però, penso che non dobbiamo entrare in campo con questa mentalità, perché potrebbe essere un'arma a doppio taglio. Sia la partita dell'andata, come quella del ritorno, noi dovremmo scendere in campo per portare a casa i tre punti. Poi, a fine partita, vedremo. Grazie. 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 Grazie.